In diretta dagli studi del Fletti via Torino! Il mestre... Ciao ragazzi, eccomi qui con una mappa di Venezia vestito da turista per andare a chiedere le domande più stressanti che i turisti fanno ai veneziani. Do you know where is the Colosseum? No, we don't have the Colosseum here. You don't have the Colosseum? We are in Italy. Yeah, I know, but we're in Venice. So what are you looking for? The Colosseum. Colosseum is in Rome. Ah, it's in Rome! And how can I get the Vaporetto to Rome? Excuse me, can I ask you a question? Where is... Gasboro? No? Gasboro? You don't know Gasboro? No, I don't know. No, I don't know. The city of Venice will close. Non so, l'inglese. No? No. Venice close the... Chiusura? Yes, yes, chiuso, chiuso, Venice. Venice, what time? Time. At what time it closes Venice? Yes. Where? Locals? No, 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 the city. At what time the city closes. Ah, it's always open. Open? Yes. Yes, yes, it's always open. At what time did you close Venice? How close Venice? Ah, you can walk around the city? Oh, yeah, yeah. And how much is to walk in the city at night? It's free. Oh, it's free? Yeah. Incredible. Of course. Thank you. Thank you. Thank you. Santa Maria Pornosa. Pornosa. Or Nosa. Or Nosa. Santa Maria. Formosa. Or Cosa. Or Cosa. Formosa. Formo. Or, ah. sono venetian? true venetian? sì incredibile venetian people la gente no more venetian in the city e muore sì muore perché c'è troppa gente true venetian è troppa gente troppa gente e fa tanti danni troppi danni vero? che c'è troppa gente Grazie a tutti.